amanti del cioccolato facciamo la ricettina tortini a due strati con mousse di cioccolato fondente andiamo subito la ricetta e al procedimento un'uova ho aggiunto 15 grammi di zucchero di canna e un pizzico di sale ora montiamo il tutto fino a creare un composto chiaro e spumoso miscelo un cucchiaio di cacao in polvere con 25 grammi di farina io ho utilizzato quella di riso aggiungiamo al composto spumoso 15 grammi di burro fuso freddo e le farine mescolate poi setacciate un po per volta versiamo ora il composto in stampini ricoperti di carta forno ora cuociamo a 180 gradi per una decina di minuti ho versato ora 200 ml di panna fresca e ho utilizzato quella di soia per rendere il tortino un po più leggero e portiamo a ebollizione nel frattempo che la panna arriva ad ebollizione tagliamo a pezzettini piccolissimi il cioccolato fondente che sono 200 grammi panna ben calda adesso spegniamo il fuoco e ci versiamo i 200 grammi di cioccolato fondente facciamo sciogliere nel frattempo ho sfornato i tortini li ho fatti cuocere un 5 minuti in più che è perfetto adesso li lasciamo raffreddare ho tolto la panna vegetale e il cioccolato che ormai si è sciolto dal fuoco e adesso li lasciamo raffreddare una precisazione non ho aggiunto zuccheri in più perché la panna era già zuccherata ma nel caso voi vogliate acquistare una panna che non abbia lo zucchero potete poi aggiungere zucchero a vostro piacere adesso lasciamo raffreddare composto ormai freddo manca un pezzettino perché ho dovuto farlo assaggio e devo dire che insomma ha provato adesso montiamo tutto con le fruste elettriche verso il composto montato nei tre pirottini e ora metto il tutto in frigorifero fino a completo rassodamento minimo un due ore questo è il casino dietro le quinte perché non è tutto bello ciò che spargiamo di cacao amaro prima di cospargerlo volevo farvelo vedere vedete questa parte qui è con la mousse e questa parte qui è quella col biscotto e adesso lo cospargiamo non vedo l'ora eccoli qua decorati adesso facciamo la prova assaggio questo è il tortino tagliato vedete questa è la mousse e questo è appunto il tortino senza glutine con cacao e adesso passiamo all'assaggio no vai serena taglia senti non vedo l'ora di assaggiarlo tu cosa ne pensi ecco com'è è impegnata dimmi com'è è buona adesso lo assaggio io la parte della mousse è veramente cremosa il tortino è perfetto se l'idea vi è piaciuta iscrivetevi al canale e mettete come dice il dittino un like al video e alla prossima intanto noi mangiamo devo dire è proprio buono buono ciao ciao